Un luogo dove curarsi da malattie croniche, dove i medici di medicina generale operano e indirizzano i pazienti verso visite specializzate, reparti aperti per alcuni giorni alla settimana, visite su appuntamento e non, una sorta di ospedale senza adegenza, ma solo per consulti e visite. Sono le case della salute, ambulatori sparsi sul territorio provinciale, già attive a Borgo Novo, Corte Maggiore, Podenzano e San Nicolò, mentre a Betto, la già funzionante, sarà inaugurata in primavera. Il luogo, il filtro rispetto ai ricoveri ospedalieri, il primo luogo di accesso per chi ha dei bisogni di salute, in grado di dare delle risposte immediate, non tanto ai casi acuti, ma alle patologie più diffuse nel territorio. Quindi è il luogo dove medicina di base, quindi medici di famiglia, specialisti, professionisti, la specialistica ambulatoria di primo livello, le cure domiciliari trovano le risposte più adeguate perché c'è un lavoro di affiancamento fra medici di base e specialisti in grado di intercettare da subito i bisogni di salute, dare le consulenze immediate e favorire le risposte più appropriate, più immediate, più efficaci ai problemi di salute che hanno le persone. Un nuovo modo di approcciare il malato risparmiando sull'ospedalizzazione e garantendo un'attenzione maggiore verso il paziente. Questa è la sfida della sanità regionale per il futuro. Un quarto della popolazione della provincia, fra diabete, broncopomoniti, ipertensione e scompenso, ha malattie croniche. I dati che abbiamo visto ci dicono che il 50% dei cronici oggi non segue i percorsi di cura. La sfida che noi dobbiamo vincere sul futuro è riuscire a intercettare il più precocemente possibile queste patologie e soprattutto convincere i pazienti a entrare e restare nei percorsi di cura. Questo è qualcosa che noi faremo soprattutto con le case della salute. Ricordiamoci, il tema è quello della medicina iniziativa. La medicina iniziativa è fatta nelle case della salute e non negli ospedali.